Quattro. Marine, in azione. Siamo in vattaggio. Il nostro uavvio operativo. Non siamo più in vattaggio. UAV nemico in volo. Siamo in vattaggio. UAV da ricognizione in attesa. Il nostro uavvio operativo. Non siamo più in vattaggio. Siamo in vattaggio. Il nostro uavvio operativo. UAV da ricognizione in attesa. UAV da ricognizione in attesa. Il nostro uavvio operativo. Coprimi, deboli caricare. Raida è rivagliato in corso. È rivagliato in arrivo. Il nostro uavvio operativo. Siamo in vattaggio. Il nostro uavvio operativo. Il nostro uavvio operativo. Il nostro uavvio operativo. Grazie a tutti. 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 Missione compiuta. Ottimo lavoro, Marine.